Ciao a tutti ragazzi, sono TheSimonGames e benvenuti in questo nuovo video in cui vi darò veramente una bella notizia perché oggi, 24 gennaio 2013, sono finalmente diventato partner. Infatti, qualche giorno fa ho fatto la richiesta con Fullscreen, proprio ieri sera mi arrivò un'email che mi aveva scritto un dirigente di questa azienda e organizzazione dicendomi che avevano accettato la richiesta, insomma mi allegava un file per vedere tutti i vari vantaggi e poi mi aveva detto di prima di rispondergli se accettavo. Io ho risposto, gli ho detto che l'accettavo e che aspettavo con pazienza il loro contratto. Il giorno dopo, questa mattina, mi è arrivata l'email con il contratto e tutto e ho firmato tutto quindi ero già partner con Fullscreen. Poi oggi pomeriggio faccio un video, quello che avete visto, forse avete visto, non lo so, come scaricare Houncelander per Mac e Windows insieme a un dualcomenter, insieme a Dazio, il mio compagno di clan, Clixbox, quindi questo è l'altro canale dei joint gamers comunque. Abbiamo fatto questo video, visto che eravamo insieme, ho detto vabbè facciamo un video. L'ho caricato e appena l'ho caricato, praticamente dopo mi è arrivata, diciamo, una notifica su YouTube che ero diventato partner, infatti sono andato sulle impostazioni, avevo la possibilità di inserire questo banner qua grande che a me è la cosa più importante della partnership, poi anche le miniature video che adesso posso modificare, infatti mi metterò a farle con Photoshop e anche questo è un lato molto positivo perché volevo veramente, le miniature erano qualcosa di veramente stupendo, poi qui ho inserito 24.1.013 partner with fullscreen per non dimenticarselo, e quindi niente, ho aggiunto adesso il banner, adesso metterò il link per Facebook e Twitter qua sopra, così magari li posso anche togliere da qua sotto visto che ci arrivano da molti troppi. E niente ragazzi, quindi io adesso tornerò molto più attivo di prima perché è il primo degli impegni scolastici eccetera eccetera, non avevo tanto tempo a passare su YouTube, comunque adesso con la partner aumenterò molto di molto l'attività, infatti mi vedrete sempre più attivo offrendo tutorial e il resto. Sono veramente felice perché finalmente ho raggiunto un grande obiettivo, cioè essere partner, poi oggi raggiungerò anche l'obiettivo magari dei 1000 iscritti, sarebbe un sogno, comunque adesso puntiamo per i 400, infatti a 400 iscritti farò un altro video, insomma niente, vi ringrazio adesso, vi ringrazierò per sempre ragazzi perché è solo merito vostro, con tutte le sfighe che ho avuto su YouTube, tra segnalazioni e cose, è veramente una cosa che mi capita giusta ad essere partner, quindi veramente grazie a tutti ragazzi. E poi cos'altro volevo dire? Sì, che praticamente per festeggiare diciamo la partner, per il primo che commenta qui sotto, sotto il video, regalerò una key per la demo di Dead Space 3 per Xbox 360, quindi se non avete l'Xbox, non lo so, da dare un amico, non lo so, vedete un po' voi se non la volete e non la chiedete, insomma per il primo appunto che commenta, non lo so, qualcosa con key, cioè key, vi darò insomma la key per la demo. Quindi niente ragazzi, vi ringrazio veramente molto di cuore a tutti, veramente non so come ringraziarvi. Insomma adesso oltre ai video su tutorial vorrei fare anche qualcosa su Android, infatti come vedete l'umino di Android è qui, quindi farò anche qualcosa su Android magari, quindi vabbè, niente ragazzi, qui chiudo il video e ci vediamo in un prossimo video, grazie ancora a tutti ragazzi e alla prossima, ciao!